Grazie al Presidente e al Presidente dell'Area Tecnica, il signor Renato Luzzi, presenza di il suo apporto, giorno per giorno, lasciando anche gli affetti familiari, lasciando pure il lavoro, il precontento, ha portato avanti questa sua faccia. Da parte mia io ho piena fiducia del Presidente e responsabile tecnico dell'Area Tecnica della Scuola Cazzo del settore giovanile e i frutti lo vediamo. Abbiamo discorso successi sia in Abruzzo e fuori Abruzzo, in ultimo il torneo a San Benedetto del Tronto dove si sono esibiti i Puccini 2006-2007, mi pare che si sono classificati secondi, terzi, mentre i giovanissimi si sono classificati secondi scondicchi ai rigori. Siamo usciti con gli applausi e siamo lavorati con le società apprasenate come la Terni Calcio. Abbiamo vinto sempre con i giovanissimi a Tessa, anche prima classificata nella categoria giovanissimi. Siamo pronti per ripartire anche per l'annata calcistica del 2017-2018. Noi abbiamo dei progetti già in primere, abbiamo molto da fare, ma vogliamo l'apporto anche dei genitori, dei ragazzi affinché questa società cresca ancora di più. Infatti, se andate sulla pagina di Facebook, stiamo anche su Youtube, ogni giorno abbiamo adizioni da tutta l'Italia e anche dall'Esta. Non vi voglio divulgare, vi auguro solo il don appetito e grazie di essere qui.